Parliamo di calcio a mercato, parliamo di due giocatori che si stanno mettendo in luce non solamente nei loro club, nei loro attuali club, ma lo stanno facendo anche al Mondiale. Mondiale che è un evento di una portata mediatica davvero di notevoli dimensioni e Mondiale che ha attirato l'attenzione di tutti gli editi lavori dei principali club verso due ex obiettivi rossoneri. Stiamo parlando di Enzo Fernandez e stiamo parlando di Julian Alvarez, giocatore attualmente in forza Benfica, Enzo Fernandez e Julian Alvarez attualmente attaccante del Manchester City. Due grandi rimpianti rossoneri, sì, perché il Milan, perché Paolo Maldini, Ricky Massara e Goffri Moncada avevano in qualche modo cercato, seguito per diverse settimane e per diverso tempo i giocatori, i due rispettivi calciatori. Ma andando anche gli scout, andando lo stesso Moncada in Argentina a seguirle da vicino e le loro valutazioni, i loro feedback, le loro relazioni erano assolutamente positive. Cosa è mancato? È mancato coraggio? È mancata forza nell'investimento? Non lo sapremo mai, però sono due giocatori che veramente lasciano la mano in bocca, il loro mancato arrivo lascia la mano in bocca. Perché sono due giocatori, intanto giovani, dal grande futuro, ma soprattutto già dal grande presente, lo stanno dimostrando nelle loro rispettive squadre. E sono due giocatori che avrebbero fatto sicuramente comodo a questo Milan, perché Enzo Fernandez si sposa molto bene con gli attuali centrocampisti rossoneri. Abbiamo visto sia a River, sia attualmente nel Benfica, sia nella selezione argentina, quanto sia un giocatore importante, presente per il centrocampo argentino e per il centrocampo anche della squadra portoghese. Ha dimostrato personalità, coraggio, qualità, capacità e intelligenza tattica. Lo ha dimostrato sia in un campionato portoghese, sia in Champions League e sia in un mondiale. Ed è un giocatore davvero molto giovane. Stiamo parlando di ragazzi ventenni, quindi che sarebbero andati a rinforzare il Milan del presente e anche il Milan del futuro. Pensate poi che le cifre per cui sono stati acquistati sono davvero irrisorie. Se pensiamo anche alla durata dell'investimento, alla possibile durata dell'investimento sui giocatori, ripeto, ventenni giocatori che hanno davanti tutta una carriera. Parliamo di Enzo Fernandez nel dettaglio come primo giocatore. È arrivato al Benfica per una cifra intorno ai 18 milioni di euro. Pensate, così composta 10 milioni subito più 8 di bonus, possibili di bonus. Ora il giocatore dopo un semestre con la maglia del Benfica vale già 35 milioni di euro. E sappiamo bene come la squadra portoghese, come Rui Costa che gestisce il mercato del Benfica, sia sempre molto attento ai talenti sudamericani e talenti che arrivano dal Sud America. E quindi quando è arrivato l'interesse del Benfica ero già convinto che sarebbe finita male. Perché il Benfica ha questo appeal di valorizzazione dei giovani, prende già un accordo col Benfica questo semestre, questo anno, questo anno e mezzo del Benfica per poi essere rivenduti, per poi essere messi in mostra nel calcio europeo che conta di più, squadre inglesi, squadre spagnole e poco, ora poco, il mercato italiano. E poi c'è Julian Alvarez con una storia simile perché è arrivato dalla River al Manchester City per una cifra vicina ai 20 milioni di euro e pensate che prende 3 milioni netti a stagione. Cifra molto simile a quella che prende Fernandez che si dice che balla tra 2,5 e 3 all'anno. Quindi anche costo di ingaggio davvero contenuto comunque in linea a quelli che erano i parametri del fondo Iliot e quelli che sono gli attuali parametri del fondo di Jerry Cardinale, di Redbird Capital Partner. Quindi due grandi rimpianti. Il Milan con loro due avrebbe potuto sistemare il centrocampo e l'attacco almeno per 5 anni per la durata del contratto. Quindi sono due grandi rimpianti perché il Milan poteva giocare un ruolo chiave. Cosa poteva offrire di più rispetto al Benfica e rispetto al Manchester City? Tanto. Intanto è la titolarità perché comunque il Milan è un grande club ma è un club che ha da poco iniziato a tornare ai vertici. Quindi i giovani hanno più facilità di mettersi in mostra. Penso a Alvarez che non ha davanti tutta questa concorrenza, non avrebbe davanti tutta questa concorrenza che si trova al Manchester City. Poi vedremo i numeri al Manchester City. Penso a Fernandez che poteva entrare più facilmente nella rotazione visto la partenza di Chessy. Quindi con Ben Serretonale avrebbe potuto alternarsi tranquillamente. Quindi titolarità che è fondamentale per un giovane, il grande appeal di un club come il Milan, la possibilità di giocare in Champions League e quindi di mettersi in mostra già in un grande, grandissimo club. E poi con un club come il Milan che ha voglia di vincere, che ha voglia di vincere, di confermarsi in Italia, che ha voglia di stupire e arrivare fino in fondo in Champions League. Pensate, andiamo ad analizzare i numeri di Alvarez come attaccante. Alvarez che in questo mondiale ha fatto 4 partite per il momento con 2 reti, quindi il 50% delle presenze Alvarez ha timbrato nella competizione più seguita, più amata, più possiamo dire importante per un calciatore. Mentre al Manchester City i numeri non sono dalla sua perché sono 12 le partite e 3 gol, anche se poi il giocatore non parte spesso titolare. Ecco qui che dicevo la titolarità, in un campionato come il campionato italiano poteva tranquillamente crescere con più facilità. Probabilmente è un campionato, il campionato argentino e il campionato italiano che sono più simili rispetto a un campionato inglese dove è più fisico, più veloce. Probabilmente in Italia avrebbe fatto anche e sicuramente meglio. E Fernandez, l'ho detto prima, mi sta incuriosendo, lo sto guardando con grande attenzione in questo mondiale dove ha preso di mano il centrocampo dell'Argentina. Un ruolo, il centrocampo argentino che ha sempre avuto delle lacune e Fernandez lascia giocatori importanti in panchina. E quindi testimonia quanto sia fondamentale, quanto sia il faro del centrocampo. Peccato, due grandi rimpianti, due grandi rimpianti per il nostro Milan. Serve più coraggio? Probabilmente sì. Serve più spinta, coraggio anche dalla proprietà di investire? Probabilmente sì perché il Milan avrebbe due grandi giocatori. Fatemi sapere amici cosa ne pensate e come sempre cliccate like e iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.